Il marocchino Ahmed Nasef ha vinto la 14esima edizione della Maratona Internazionale di Napoli Trofeo Banco di Napoli che si è conclusa in piazza del plebiscito. L'atleta 36enne ha chiuso la prova in 2 ore 18 minuti e 58 secondi. Tra le donne ha trionfato la favorita della vigilia, Ornella Ferrara, vice campionessa italiana di maratona in carica e medaglia di bronzo ai mondiali di Göteborg nel 1995. Più di 1200 gli atleti che hanno affollato le strade di Napoli per una mattinata di sport e agonismo ed entusiasti i commenti per la città da parte dei maratoneti venuti dall'Italia e dall'estero. Soddisfatti anche gli organizzatori secondo i quali sono state poste le basi per far entrare Napoli nel circuito internazionale. Affluenza record anche per gli stand del Ciocco Fest in piazza plebiscito che regalavano wafer e cioccolata calda. Lo spirito della maratona si sposa con il nostro modo di intendere la città il commento del sindaco Luigi De Magistris intervenuto alla premiazione con più spazi riservati ai pedoni grazie alle aree chiuse al traffico e con la realizzazione di una maxipista ciclabile.